Ciao a tutti amici, ho detto appena adesso nel mio ultimo video che i miei drammi suscitano risate, ma non è vero, solo in alcuni casi, di solito la gente è comprensiva nei miei confronti e mi vuole molto bene e cerca di aiutarmi nelle mie difficoltà. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima